Horror Series, Episodio 13, Stagione 3 Allora Grinch, tu tra poco te ne vari? Sì, abbiamo trovato la slitta Sì Ma non è quella di Babbo Natale, un'altra slitta Ok, sì, lo so che non è quella di Babbo Natale Sarebbe bello per avere quella di Babbo Natale Comunque, grazie per aver sconfitto Morty Senza di te saremmo morti Sicuramente Sì, sicuro E beh, che dici, vuoi andare? Due minuti, amico mio Ok, due minuti Poi non ci vedremo mai più Però... Sì Ho fiducia in te Non ti preoccupare Ormai Morty è lì in cucina Ti farò un regalo prima di andare via Un regalo? Sì Che regalo? Non te lo posso dire Ah, non me lo dici Beh, facciamo un regalo Nel momento in cui sto per partire Ok, ok Sulla mia slitta Ok, speriamo che Morty non ritorni Speriamo che parte Sta prima da un po' di tempo Effettivamente Va bene Ma non è che il prossimo Natale mi puoi venire a trovare? Non tornerò più qui Perché? Perché? Perché Lo capirai quando ti darò il mio regalo Ok, ma Basta, non farmi domande Ok, ok E basta Ok Wow Allora, però C'è solo un piccolo problemuccio Solo che Morty ora sta di là in cucina steso a terra Lo dovremo portare di nuovo nel suo portale strano Dai il fuoco Come dai il fuoco? Ducelo No, no, no Buttalo giù No Buttalo nella spazzatura Non è se Squaglialo Accedi il cammino E la madonna Non dite parolecce Non è una parolecce Il grigio non vuole che le dici parolecce Ok, ragazzi Il grigio Ma l'avete visto? È un po' strano Che è successo? Che lo triste Perché mi stacco da te Ah, è triste Vabbè, dai Ma non ti preoccupare Non mi preoccupo Ma poi magari vengo io a casa tua Non puoi venire a casa mia Perché? Non puoi venire Io non posso venire Tu non puoi venire Non ci vedremo mai più Ma no, ma no E basta Comunque ci dobbiamo lasciare È arrivato il momento di saltarci Vabbè Ti ricorderò per sempre Ti do una cosa Che calda queste mani Che ti ricorderà di Mi devi dare una cosa di Dammi, dammi Dammi, dai Adesso Ti svelo un segreto Sì, sì, dammi Una cosa Che nessuno conosce Ok, ok Il mio vero volto In che senso? Questa te la lascio Come ricordo Ma che cavolo Ragazzi, ma Wow Mi ha regalato una sua maschera Che fegata Ciao amico mio Ciao Ci vediamo Ci vediamo Grinch Ci vediamo Grinch Mi mancherai Ragazzi Il Grinch È partito Mi ha dato Una sua maschera Non so perché Me l'abbia data Però Però Ho un'idea E se questa maschera La utilizzo Per fare uno scherzo A Papi A mio padre Sì Mi fingo il Grinch Una bella idea Però Però È un poco triste Che il Grinch La sia andato Chissà se Verrà a trovarmi Però ha detto di no La terro Senti Ebbene ragazzi Penso che la serie Finisce qui E speriamo Che Morty Non ritorni Vabbè Dovrebbe essere Morty 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 Sua Ok E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao E si